Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi sabato 21 settembre 2019 Dio vi benedica e sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà Loda e gloria al nostro Signore Gesù Cristo e Ave Maria Come avete visto dalla locandina che abbiamo messo in questa puntata odierna avete visto c'è scritto scisma e terza guerra mondiale Questi nuovi messaggi che sono di questo mese di settembre sono abbastanza, come vi ho detto, abbastanza forti nel senso che stanno ribattendo sulla questione dello scisma e la terza guerra mondiale tant'è vero che abbiamo scritto che abbiamo preso due di questi messaggi fratelli e sorelle Anguera e Trevegnano Romano che adesso andiamo ovviamente a meditare, a leggere e capire che cosa potrebbe ovviamente tutto ciò significare Iniziamo con il messaggio di Anguera, trasmesso il 14 settembre del 2019 Cari figli, Dio affretta, non incrociate le braccia Questo è il tempo opportuno per il vostro ritorno Aprite i vostri cuori ed accettate la volontà di Dio per le vostre vite Camminate per un futuro doloroso La grande guerra verrà e il dolore sarà grande per i miei poveri figli Quindi la grande guerra, cari fratelli e sorelle, si intende la terza guerra mondiale Quello che già stanno facendo in questi giorni, avete visto, ci sono varie tensioni al Medio Oriente Tant'è vero che le profezie dicono che proprio da lì, dal Medio Oriente, uscirà questa, purtroppo, terza guerra mondiale O castigo che parte dalla terra, cioè che c'è qui da noi, cari fratelli e sorelle, sulla terra E dice, una piaga sarà aperta nel cuore della Chiesa E questa piaga, cari fratelli e sorelle, di solito si fa riferimento a grandi eventi negativi Che avvengono all'interno della Santa Chiesa, in questo caso E non è escluso che si parla di scisma Avete sentito le dichiarazioni del Papa attuale, quello che ha detto sul fatto di un presunto scisma Nelle notizie che vi abbiamo dato si parlava anche della Germania stessa Che è possibile che arriva uno scisma anche da lì Quindi è un, sia nel mondo che nella Chiesa c'è tempo di purificazione, fratelli e sorelle Il punto, siamo arrivati a quei tempi predetti in precedenza che li stiamo vivendo proprio adesso E dice ancora il messaggio Piegate le vostre ginocchia in preghiera, rimanete fermi nel cammino che vi ho indicato Qualunque cosa accada, rimanete con Gesù E accogliete gli insegnamenti del vero magistrato della sua Chiesa Io sono la vostra madre e vengo dal cielo per portarvi al cielo Pentitevi, perché il pentimento è il primo passo da fare sulla strada della santità Sappiamo tutto, faccio un altro inciso Sappiamo tutti che il pentimento è fondamentale per arrivare sulla strada della conversione e quindi della santità Santa Suor Faustina nel diario con le apparizioni che vedeva dal Signore Questo gli indicava, cioè se non c'è il pentimento Non si va da nessuna parte, fratelli e sorelle Si parte tutto da lì, dalla purificazione Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo Avanti nella difesa della verità Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto Nel nome della Santissima Trinità Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Rimanete nella pace Quindi vedete, questo messaggio va a prendere due posizioni Ripeto, due eventi profetici già detti E confermano che tutto ciò è vicino Lo scisma e la terza guerra mondiale Scisma della Chiesa e terza guerra mondiale Purtroppo uno può dire Ma no, sono tutti eventi No, sì, con la preghiera si possono mitigare Però attenzione Determinate cose verranno comunque Quindi vedremo quello che accadrà Cari fratelli e sorelli Intanto preghiamo molto Perché la cosa più importante È la preghiera che nostro Signore Ci ha già fatto comprendere Che senza di questa non si va da nessuna parte L'altro messaggio Trevegnano Romano Sempre del 14 settembre 2019 Dice questo alla Vergine Maria Cari bambini miei Grazie per essere qui nella preghiera Figli Questi tempi li ho predetti da molto E adesso siete in mezzo Al periodo peggiore Che possa vivere l'umanità Quindi vedete Stiamo vivendo questi tempi E dice Io sono venuta per avvertirvi E istruirvi Ma nonostante tutto Ancora l'umanità Non è ancora prontata a assistere A tutto ciò che arriverà Quindi vedete L'umanità Dice la Vergine Maria Non è pronta ad assistere A quello che deve avvenire Fratelli e sorelle Cioè la grande purificazione La grande tribolazione La guerra La sfera della retenzione Tutto quello che dovrà avvenire Non siamo preparati Fratelli e sorelle Per dire questo Fratelli e sorelle La Vergine Maria Lo dice tristemente Quindi Io ci metto Mi ci metto anch'io Fratelli e sorelle Ma siamo preparati anche noi A vivere tutto ciò E continua il messaggio Vi chiedo Figli miei Ancora una volta Rafforzatevi Con la preghiera Tutti i giorni Non ascoltate Che dice male di voi Ma affidatevi Tutti a mio figlio Non provate rancore Per i vostri fratelli Ma perdonate I demoni Scelgono le anime Deboli nella fede Figli miei Pregate per questa terra E per questa umanità Che sceglie le cose terrene E non elevando lo spirito Morirà Guardate il cielo Perché presto Il mio Gesù Sarà con voi E vedrete Cieli nuovi E terra nuova Ora vi benedico Nel nome del padre Del figlio E dello spirito santo Amen Quindi vedete come Il messaggio Anche questo Fa vedere Da una parte Che c'è una sorta Di speranza Sempre Perché Senza la speranza In Cristo Non si va da nessuna parte Cari fratelli E care sorelle Quindi la cosa più importante È quello Però certo C'è da considerare Che non vedete Non siamo effettivamente Pronti per affrontare Tutti questi eventi E la Vergine Maria Ci sta mettendo in guardia Cioè Ritornate a Gesù Convertitevi Camminate sul Signore Cioè nella strada del Signore Però vedete Fratelli e sorelle Non è così semplice L'umanità Pensa a tutt'altro Si gira dall'altra parte Nei confronti di Dio E questa È la realtà Ovviamente Che stiamo vivendo In questi giorni E in questi ultimi tempi Cari fratelli E care sorelle Intanto Se volete Se potete Diffondete La parola di Dio Che vi diamo Tutti i giorni Ovviamente Quella della Santa Messa Se potete Se volete Diffondete Questi messaggi Che la Vergine Maria Vuole Che si Vuole Ovviamente Non è un obbligo Ma Nel cuore Che vengano diffusi A tutto il mondo Se volete Potete Ovviamente Mettere i like Proprio per dare Più visibilità E non Ripeto Io lo dico sempre Non per Chi vi parla Ma per la gloria di Dio Cioè per diffondere Questi messaggi Fratelli e sorelle E diffondetele Se potete E se volete E ovviamente Tutto ciò Per la gloria di Dio Poi se volete Se potete Iscrivetevi Al nostro canale Di Pietro Paolo Trinità Se ancora non l'avete fatto E iscrivetevi Al nuovo canale Di Pietro Paolo Trinità 2 Che è È stato fatto in vista Quando ci sarà la censura E ci bloccheranno Sicuramente il canale Perché vedete Che i tempi Non sono dei migliori E che sia fatta La volontà Di nostro Signore Gesù Cristo Dio vi benedica Sia lotato Nostro Signore Gesù Cristo Sia fatta La sua santa e divina volontà L'oda e gloria a Cristo E Ave Maria E Santa giornata A tutti voi